Musica Ciao a tutti, io sono Angela Bianco e loro sono i Castrum in Quartet. Abbiamo creato questo nuovo progetto per valorizzare il territorio attraverso la riscoperta della musica popolare calabrese. Il nostro progetto parte da Soveria Mannelli, punta alla conquista del territorio calabrese e nazionale e anche internazionale. Mi passo Carmine che vi parlerà del loro progetto. Grazie Angela. Vi presento quelli che sono i musicisti dei Castrum in Quartet. Sono Giuseppe Mazzotta alle percussioni etniche, Fabio Malomo alle percussioni come Cassa e Tamburello, alle tastiere e alla fisarmonica Gabriele Perrelli, voce e chitarra ci sono io, Carmine Mazzotta e alla splendida voce e alle danze popolari Angela Bianco. Castrum in Quartet nasce da quello che è il Castrum Sound, cioè quindi un gruppo di più persone, di dieci persone che puntano alla valorizzazione del territorio, quindi alla tradizione popolare del Sud Italia e quindi passando dalla Puglia alla Calabria fino alla Sicilia fino alla Campania e cercando di portare una modernizzazione di quella che è la musica popolare attuale. Siamo composti da queste persone perché cerchiamo di portare nelle piazze maggior tradizione e quindi meno persone, una cosa più fruibile, qualcosa che più può andare nei locali, qualcosa che si può comprare molto di più rispetto a quello che è il nostro gruppo maggiore. Grazie a tutti.